Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io oggi ho messo il maglione di Natale, mi sposto un po' più qua. Ho messo il maglione di Natale e il rossetto rosso, così per creare un po' di atmosfera. Oggi vi do 10 idee per dei regali per una ragazza, per una donna. Ovviamente, farò anche la versione da un uomo, ovviamente questi regali non è detto che devono per forza essere regalati a una donna. Io parlo per mia esperienza, sono cose che io ho regalato a delle ragazze e cose che io ho regalato a dei ragazzi. Ma se qualcuna di queste idee vi piace per un ragazzo, un amico, un padre, un fidanzato, non lo so, ovviamente vanno perfettamente bene. Io parlo per la mia esperienza. Vi dirò anche dove io le ho comprate, eccetera, eccetera. Allora, la prima idea è un percorso spa. Come percorso spa ci sono diversi prezzi su Groupon, soprattutto. Trovate a partire da 30 euro, 50 euro, 100 euro, fino a salire ovviamente. Ogni pacchetto ha delle cose diverse, voi in base alla vostra disponibilità potete scegliere. E praticamente cercando la vostra città e la zona in cui abitate, o dove volete appunto che ci sia questo posto, vi da tutte le strutture che aderiscono a Groupon e quindi che vi fanno pagare poco dei servizi che solitamente paghereste un po' di più. Seconda opzione è la collana di Tiffany, quella classica, questa è sui 280 euro, la trovate ovviamente nel sito, vi metto la foto qui da qualche parte. Terza opzione è una candela, allora qua prendo il quaderno perché devo ricordare un po'. Allora, trovate la candela con i cristalli dentro a 26 euro sul sito Etsy, che si scrive E-T-S-Y. Poi trovate quelle con la forma quadrata, diciamo, quella che vi ho messo la foto, ecco, a 20 euro sul sito Candle Vibes. E poi trovate quelle che sembrano di dolci, a 14 euro sempre su Etsy, credo si legga Etsy. Comunque, come quarta idea invece ho pensato a una lampada con una foto personalizzata, qui vi metto qualche esempio, e la trovate sempre su questo sito a 30 euro, o per la potete trovare anche su Amazon, però non so a che prezzo. E, insomma, si trova un po' comunque. Poi, come quinta idea, ho pensato alle saponette effervescenti. Io ne sono patita, proprio le amo. È un regalo che soprattutto mio padre e mia madre mi hanno fatto spesso, perché questo negozio, perulash, che scrive L-U-S-H, non si trova qui dove abito io, bensì si trova dove lavora mio padre, al nord, per cui lui ogni tanto me le fa recapitare, e le trovate dai 4 ai 10 euro, e ce n'è veramente di bellissime, tipo, io ne ho avute alcune un po' particolari, che praticamente erano una sfera, e una volta rotto il primo strato, dentro c'erano tutte delle, dei microcristalli effervescenti che scoppiantavano nell'acqua, oppure ci sono quelle con i fiori secchi, quindi che poi riempiono la vasca di fiori, di rose, e, insomma, le trovate veramente carine, anche l'arcobaleno, poi ovviamente l'acqua diventa di colori splendidi, e quindi ve lo consiglio, anche perché se non erro, però non vorrei dire una cavolata, sono tutti prodotti vegani, credo, però andate a controllare, ma penso di sì. Poi, sesta idea, ho pensato al tatuaggio, perché comunque in ogni negozio di tatuaggi potete fare il buono del pezzo che volete voi, e secondo me è un regalo carino, ovviamente dipende dalla confidenza che c'è con quella persona. Poi, settima idea, ho pensato al vero accele Kidult, io ne ho qualcuno, tipo, adesso ve ne faccio vedere uno, ma ho anche quello di Natale, però è conservato, ovviamente, però si veda, è questo qui, che qui ha il brillantino, mentre qui c'è scritto 100% me, però si è rovinato, perché ce l'ho da tanto tempo, ma sono molto molto carini, e costano tutti sui 30 euro, ovviamente ci sono i modelli più costosi, però in linea di massima costano tutti sui 30 euro, così ve lo mostro un po' meglio. E poi, la particolarità di Kidult, è che dentro ogni scatolina c'è una frase, un concetto molto bello, che è più inerente al senso del bracciale. Poi, ottava idea, ho pensato a degli abiti, a me sono stati regalati dal mio ragazzo. Ok, era finita la memoria del telefono, spero non succeda di nuovo, e andrò un po' più veloce. Allora, stavo dicendo, il mio ragazzo appunto mi ha regalato questi abiti, e per, non questi che vedete in foto adesso, mi ha regalato degli abiti da Shane, anche questi sono di Shane, per poi andare a cena fuori. Io qui ve ne ho mostrati quattro, i rispettivi prezzi sono 16, 22, 8 e 17. Ho provato a metterne i più tipi possibili, ma ad esempio non ho messo quelli lunghi, perché a me non piacciono gli abiti lunghi. Poi, non ha idea, ho pensato alla lampada di sale, la trovate su Amazon a 22,95 euro, altrimenti ci sono proprio dei negozi appositi, tipo nella mia città c'è un negozio che vende praticamente solo lampade di sale, e ovviamente dipende dal peso, cambia anche il prezzo. Poi ci sono quelle un po' più particolari, tipo la mia ha delle pietre di sale sopra, e oppure ci sono quelle che sono un pezzo unico, come la foto che state vedendo probabilmente adesso. Poi, come decima idea, ho pensato agli orecchini Pandora, a cui ve ne mostro tre, i rispettivi prezzi sono 39 euro, 55 euro, 89 euro. Mi sono scordata di dirvi che i numeri che vedete sotto alle foto dei vestiti sono i codici di Shane, quindi basta che andate su Shane e cercate il codice e vi porta direttamente al vestito. Ok, io spero che queste idee vi siano utili. Provate a toccare un po' tutti i budget, partendo dai 4 euro e arrivando ai 180-280 della collana. E nulla. Io vi ringrazio di aver visto questo video, domani uscirà la versione maschile. Commentate con quello che vi è piaciuto di più, se avete altre idee da proporre scrivetelo pure. Mettete mi piace se questo video vi è piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo video, ovvero domani. Buonanotte! Buonanotte! Grazie a tutti.